Si è spento all'età di 53 anni Nevio Meneguz, direttore per oltre un decennio del CSV di Belluno, professionista stimato e conosciuto. La sua collaborazione con il centro servizi per il volontariato era iniziata nel 1999 e si era estesa fino a novembre 2023. Originario di Artendi Fonzaso e laureato in economia politica, era attivissimo nel mondo del volontariato, non solo con ruoli direttivi ma anche nel contesto di associazioni come gli alpini e i donatori di sangue. Nell'ultimo periodo della sua vita aveva affrontato un percorso di malattia ed era ricoverato all'ospis Levette di Feltre. Da qualche tempo era direttore della scuola edile di Sedico. Tra i messaggi di cordoglio quelli del CSV e di Palazzo Piloni. Meneguz, commenta il presidente della provincia Roberto Padrin, ha saputo coordinare quel mondo del volontariato che tanto bene fa le nostre comunità locali, sapendo anche andare oltre il ruolo che ricopriva con una passione e una professionalità rarissime condite da umiltà. Una nota anche dall'amministrazione di Feltre. Negli anni, ricordo del sindaco Viviana Fusaro, Meneguz ha dimostrato grande preparazione ma anche profonda passione per il mondo del volontariato e dell'associazionismo, motori insostituibili delle nostre realtà locali, mostrando sempre competenza e disponibilità. Siamo riconoscenti a Meneguz per quanto fatto a favore dell'associazionismo bellunese e nel nostro caso in modo diretto alla BEM, scrivono invece i bellunesi nel mondo. Se ne va un profondo conoscitore del territorio e delle sue dinamiche, un interprete autentico del terzo settore, commenta Loren Berton, presidente di Confindustria Belluno. Mancheranno il suo equilibrio e le sue competenze che recentemente aveva portato anche nel mondo della formazione.